Ehi la ragazzi, ciao da Nick e bentornati su Minecraft Real Pack Ragazzi, è successa una cosa stranissima È successa una cosa che mi ha lasciato di stucco Come ben sappiamo questo è il centesimo video sul Real Pack Ma ho scoperto una cosa terribile È sparito tutto Tutto quello che aveva a che fare con l'elettricità è sparito Però, come potete ben vedere, è invisibile però c'è Cioè nel senso che appare che c'è qualcosa ma è diventato invisibile E non so il perché All'improvviso ragazzi, da quant'è? Da 20 video che metto su lampioni, fili eccetera eccetera Ragazzi, è sparito tutto Guardate dentro casa, non ci stanno più i lampadari, i pulsanti Che qua c'è di fatti qualcosa, a me blocca Cioè, è sparito tutto, 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 tutto Non so il perché Non lo so, forse sarà stato perché nel precedente gameplay si è mandati In quell'altra mappa là, forse ha creato un bug, non lo so Il fatto è che è sparito tutto e sinceramente non mi metto a ricostruire tutto da capo Tutte le cose elettriche Cioè ragazzi, è sparito tutto È sparita la centrale elettrica È sparita Guardate, è sparito tutto Cioè, è invisibile C'è C'è perché non vedete, non è che vi sto a piedi in giro Qui la roba, diciamo che ci stanno gli oggetti Però non funzionano più Cioè, è come dire Niente Puff, è andato via tutto Non c'è più niente Le batterie Tutto ragazzi Tutto sparito È un grosso problema Non ho copie di backup Della mappa Non ce le ho E quindi è un grosso problema Sta cosa qui ragazzi Ha proprio buttato giù la serie Perché comunque insomma Era importante Le luci e tutte queste belle cose È sparito proprio tutto 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 ciò che ha a che fare con l'elettricità Non me l'aspettavo che sta mod creasse sto problema Non lo pensavo minimamente ovviamente E come potete ben vedere Anche il tracciato non è più illuminato I lampioni ci stanno Ma sono diventati invisibili È tutto sparito ragazzi Una grande delusione Una grande delusione Sinceramente il centesimo video Sto centesimo video è purtroppo Non è quello che volevo È brutto È brutto È sparito tutto Sparito proprio tutto Ora sinceramente ragazzi Come appunto vi ho detto Backup non ne ho Sinceramente è inutile Che magari Non lo so Se adesso Cioè come vedete Tipo Gli oggetti nell'inventario Ci stanno No? Di questa mod Vedete no? Cioè la mod Non è stata rimossa Però Gli oggetti sono spariti Nel senso Sono diventati invisibili E molti sono Spariti Del tutto Ho provato già A riavviare Il salvataggio Ma niente Sono proprio spariti E' sparito tutto Ciò che aveva a che fare Con l'elettricità E non è una cosa Proprio bella Oramai non so più Che fa Volevo dare un'occhiata Tanto per Oramai c'è Dov'è che ho lasciato I borsoni Volevo vedere Se i lampioni Ce li ho ancora Lampioni Lampioni Dunque aspetta Lampioni Guarda che stanno Vabbè Pidiamo questo Uguale Proviamo a metterlo Vediamo Ok Si vede Praticamente ragazzi Ho la sensazione Che Facciamo una prova Vuoi vedere Che forse è stato L'altra mappa A creare il bug Andiamo nell'altra mappa Torniamo indietro E vediamo se Quell'ampione è sparito Alla fine Vai a vedere Che il problema È sta mappa qua E chi lo sapeva Se l'avessi saputo Prima Neanche ci andavo Ci ho perso Sì i livelli Morendo E oppure No Aspetta Ancora è qua E allora Da cosa dipende Sto bug Boh Fatto sta ragazzi Che comunque Di sta mod Non mi posso più fidare Perché mi ha fatto Perdere Un lavoro Di più di 20 Gameplay E non Non conviene Rimettere Di nuovo Sti oggetti Qua A sto punto È completamente Inutile È una mod Inutile Oramai Evidentemente È una mod Che non è completa Come doveva esserlo Non è perfetta Purtroppo E chi lo sapeva E se è perso Tutto Ora ragazzi Sinceramente Non so che altro fare Anche perché Comunque Questa serie È ben o male Già arrivata a 100 video Non sono Non sono molto sicuro Se sinceramente La vorrei portare Ancora per molto avanti Sto un po' riflettendo Eventualmente Nel futuro Di cominciare Magari una serie Un po' più Nuova Un po' più Più Equilibrata Vedrei Cioè insomma Ci sto ancora pensando Però comunque Già sto Questo bug Che mi ha rovinato 20 gameplay Mi ha fatto un po' Passare la voglia Di continuare Sono un po' Indeciso Sono veramente Parecchio indeciso Vabbè Non so neanche Che fare Perché Avevo intenzione Magari di continuare Un po' Con l'elettricità Però adesso Chiaramente Non so più Che fa Già Non so più Che fare Io direi Ragazzi Che mo' Mi fermerò Col video Sarà appunto Un video Brevissimo Ma giusto Perché comunque Aspetto un po' Più che altri I vostri commenti Suggeritemi Un po' Cosa conviene Fare Suggeritemi Cosa Mi possa Convenire Fare Anche se Non ne ho La più Pallida idea Ragazzi Vi volevo Far vedere Insomma Sto problema Che è nato E adesso Sinceramente Appunto Come ho detto Non so cosa fare Quindi Io direi Che mi Fermo qua Non metto Neanche Il finale Del piaciuto O meno Perché tanto E non è che sia Un video Non è che sia Un video Che A me piace Più di tanto La situazione Quindi Ragazzi Quindi Non lo so Mi ha un po' Spiazzato Sta cosa Quindi Aspetto un po' I vostri consigli Commenti Ragazzi Fatemi sapere Cosa conviene fare Oramai Con sta serie E il centesimo video Ma non bello Come mi aspettavo È inutile Continuare a parlare Della stessa cosa Raga Allora Io mi fermo Lasciate qualche consiglio E ditemi un po' Voi cosa conviene fare O Se volete Io ragazzi Lavorerò su Eventualmente Per Per Sviluppare Una nuova serie Giusto perché Comunque Oramai Va avanti Giato un po' E E Dato ormai La situazione Che mi è sparito Una parte importante E Che faccio Bopo Datemi i vostri consigli Ragazzi Dai Ci becchiamo In un altro video Fatemi sapere Ciao Alla prossima Dai Bye